Tante di attesa, è tutto pronto allora, si parte, Siki Furet, prova ad alzionare questo pallone, non ci riesce, illo ad attaccare, ma la venda con lo scarico via Nici, la tripla, Dozic vuole andare fino in fondo, Dozic, leve Rusco, Furet sotto da un altro, prova a fare la voce grossa, prendere posizione, arresto, tiro di Dozic, leve fuori dall'arco, da sotto da Caccamo, che vuole sfruttare sicuramente tutta l'esperienza del caso, e ci riesce, Dozic riceve, va fino in fondo, con le pinte, Dozic, parte dell'Under 19, ma la venda prova il piazzato, c'è il rimbalzo di Tommaso Russo, i ragazzi dell'Under, intanto, parte di vai, in fondo, ma la recuperata, la recuperata, la recuperata di Rivieri, Giglio, fino in fondo, appoggia, alza, non va il tiro, ma c'è un Dozic che combatte sotto canestro, Mattia Dolce, ci mette il suo Marinelli intanto, si arresta, tiro, rimessa, riceve Basile, Basile si arresta, tiro, va alla setback, Basile, sul postalto, cerca uno scarico, ed è un grandissimo passato, usata dalla difesa Pellaro, recupera questo pallone sontuoso, ma c'è, altra volta, il contro recupero di Giglio, che va, fino in fondo, fino in fondo, cacamo, soffata, del numero 20, e poi Dolce, solo Coletto, sarebbe preziosissimo, ci riesce, Russo, il passato, Dolce, ancora, Mirko Pucinotti, fino in fondo Pucinotti, senza paura, sono le potenzialità di questo ragazzo, Marinelli, intanto, grandissimo, Cacamo, con la virata, guida, l'attacco dei suoi, lo scarico per Giglio, che è tutto solo, Grizieri, lasciato solo, da tre punti, Puret, prende posizione, Basile, vuole penetrare sul fondo, ma trova l'opposizione, Grizieri, trova il passaggio per Sant'Ambrogio, extra pass di Grizieri, per Malavenda, è il suo, è il piazzato, signorino, ma Pucinotti, è già dall'altra parte, sto, ma non vengono chiamati i passi, da parte degli arbitri, Basile, trova lo scarico per Tomminia, Rivelarsi decisiva, ma, mai direi mai, che questo sport è totalmente imprevedibile, Piero Sant'Ambrogio, Giglio, sotto la, Dozic, arriva il raddoppio di Cacca, il taglio di Tommaso Russo, virata, fino in fondo, c'è rimbalzo però, offensivo di Tommaso Russo, Grizieri, vuole andare fino in fondo, rimbalzo di Russo, un secondo, Tommaso Russo da Cacca, il rimbalzo di Tommaso Russo, non ci credeva qualche lui, Cacca, ma a rimbalzo, non ce lo fa, a rimbalzo, si appoggia al, dai ragazzi di coach russo, Basile, fino in fondo, trova il piazzato, non va, c'è rimbalzo, offensivo, Tommaso Russo, adesso è il tiro dai tre punti, non c'è, ma c'è, Stilichi pure a rimbalzo, Sceglie la via del palleggio, non ripagate, poi c'è, Ancora, che lì Giglio, che prova, uscire questo giro, dal cilindro russo, fino in fondo, cerca l'uomo libero, Basile, penetra, lo trova, quell'uomo libero è Giglio, che non perdona, santa sul Toso dal nulla, si arresta e tira, ma c'è il, Ciro Bici, alla rimessa, distrazione, della difesa, va da Lampi, finta, col perno, gira benissimo Tommaso, Bensi, fino in fondo Tomminia, lo scarico per Basile, ancora, troppo solo, e 0-7, sontuoso, arresto e tiro, dal nulla, tronometro al termine di questo terzo quarto, l'ha fatto tutto solo Tomminia, finta il tiro, poi va fino in fondo, e a poco, secondi, al termine Marinelli, fino in fondo, Dozis si arresta, il tiro da tre, non va, c'è il rimbalzo di Pucinotti, Basile combatte Caccamo, come un guerriero, palla recuperata Marinelli, va da Rizzieri, Marinelli, fino in fondo, Rosso, fino in fondo, Tomminia, 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 Marinelli, Marinelli porta il blocco, Marrizzieri, va da solo, Tirobici, tutto solo, Dozic, da tre, la sentenza, per la sostanza, di Dozic, a cuore, conduce, l'azione offensuale dei suoi, vuole andare fino in fondo, di Malavenda, Marinelli, con il no look, per Rizzieri, finta il passaggio, tira, ma c'è Marinelli, Tomminia, fino in fondo, il passaggio per Tomminia, fino in fondo, Tomminia si è a controllare questo pallone, Giglio, vuole andare fino in fondo, si trova lo scarico per Marinelli, lasciato tutto solo, Sontuoso, finta il tiro da tre, extra pass di Caccamo per Marinelli, con la virata, Marinelli, Basile, fino in fondo, solo, lasciato, fino in fondo, Tomminia, di Caccamo, Russo, però prendeci questo tiro, Fonteso, finisce, la partita, con il punteggio di 87, di Caccamo, la partita, di Caccamo, Grazie a tutti